L'obiettivo è proprio quello di illustrare quali sono, lo vedete qui, i contenuti e le modalità di restituzione delle informazioni relative al consumo di suolo nei PGT, ai sensi della legge 31, che come sapete con l'articolo 5,4 ha previsto questo adempimento, diciamo così, attuativo per i comuni. Si tratta di questa che abbiamo chiamato indagine offerta PGT, che come si è detto è già stata testata nel 2018, grazie alla predisposizione di uno strumento informatico, che è un viewer, un visualizzatore, che abbiamo chiamato indagine offerta PGT e aree della rigenerazione. Questo perché ricomprende due parti di un unico grande progetto, quello di verificare, di più che verificare, condividere dei dati importanti dei PGT dei comuni della Lombardia per attuare le politiche della legge 31, che sono due politiche complementari. Da una parte la riduzione del consumo di suolo, dall'altra la promozione della rigenerazione urbana. Per questo abbiamo anche una sezione del progetto che riguarda le aree della rigenerazione. Non ne parleremo oggi. Se volete ci sarà modo di avere informazioni ulteriori nelle prossime settimane su questo progetto. Quella è una parte che i comuni possono volontariamente compilare, e quindi non è prevista una consegna dei dati entro dicembre di quest'anno. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è già stato in parte ricordato. È innanzitutto quello di verificare qual è l'effettivo consumo di suolo in corso, così dice la legge 31, cioè quello previsto dai PGT con le previsioni edificatorie vigenti. E anche però quello di verificare qual è l'offerta insediativa proposta, e in termini, in questo caso, di superficie lorda di pavimento dell'edificazione che si va a prevedere. Questo per riuscire ad attuare a pieno i contenuti della legge 31, così come sono stati proposti nei criteri del piano territoriale, che ora è vigente, integrato ai sensi di questa nuova legge per la riduzione del consumo di suolo, che va a tenere insieme le due questioni. Previsioni a tenere insieme l'evoluzione demografica, e quindi la previsione di crescita della popolazione e la previsione di insediamento di nuove attività non residenziali, con quella che è l'offerta. Quindi si chiede di fare sempre una valutazione nel momento in cui si va a prevedere un nuovo PGT, in particolare il nuovo documento di piano, rispetto a questo. È già previsto nella legge 12, non c'è niente di nuovo. Però rispetto all'applicazione dei criteri di riduzione del consumo di suolo, questo diventa ancora più importante, perché le cose sono legate. Sulla base di questa verifica viene definita una soglia di riduzione delle previsioni dei PGT vigenti. E quindi l'importanza di anticipare con questa, che sembra una consegna di dati, in realtà non è, è un progetto condiviso regione, province, comuni. Per questo c'è ANCI sempre a presentare con noi questa attività. L'obiettivo è quello di avere una condivisione di dati che consenta poi ai comuni di applicare effettivamente la soglia di riduzione su quelle che sono le previsioni vigenti al 2014. Per questo si dice, già anticipa alcuni contenuti importanti della Carta del Consumo di Suolo dei PGT. Per ottenere queste informazioni, un altro dato importante che viene richiesto qui nelle finalità è quello di avere informazioni sullo stato di attuazione delle previsioni. Perché, come sapete, nella banca dati regionale attuale questa informazione non c'è e non c'è una frequenza di aggiornamento che ci consente di verificarlo periodicamente. Cosa andiamo però a valutare? Non tutte le previsioni del piano di governo del territorio, solo quelle strategiche, diciamo così, quelle che hanno una dimensione, dovrebbero avere una dimensione più significativa. Quindi solo le previsioni riferite al documento di piano in termini di ambiti di trasformazione e solo del piano delle regole, quelle aree soggette a pianificazione attuativa. Quindi li abbiamo chiamati, per semplicità, piani attuativi del piano delle regole. Quindi rispetto a queste due tipologie di previsione del PGT, viene chiesto ai comuni di verificare i dati già presenti, perché, come si diceva, la banca dati regionale è già popolata grazie alla consegna dei dati che avete fatto nel momento in cui avete chiesto la pubblicazione sul BURL delle varianti al PGT. Quindi in quella banca dati che si chiama Tavola delle previsioni di piano già abbiamo conoscenza dei cosiddetti AMBTRANS e MODAT, sono i codici con cui vengono identificati i dati riferiti agli ambiti di trasformazione nei piani attuativi. Quindi la prima parte è quella di verificare dei dati già presenti. Li vedete qui, non mi soffermo perché li vedremo poi nel dettaglio con una demo che abbiamo preimpostato. Quindi una parte di dati, io direi, i primi da verificare sono quelli di riferimento del PGT vigente. Quindi questo è importantissimo. Se c'è un problema, segnalatelo. Non dovrebbe esserci, sono dati precompilati, cioè sono gli estremi di approvazione e pubblicazione sul BURL del vostro PGT, sia alla data del 2.12.2014, cioè la data di entrata in vigore della legge 31, sia alla data attuale. E poi vedremo qual è la soglia di riferimento che abbiamo usato per precaricare i dati, di modo che anche lì potete poi intervenire nel caso di varianti successive a quella data. Quindi vi dicevo, una serie di dati già compilati, solo da verificare ed eventualmente modificare se ci sono delle inesattezze, e invece i nuovi dati richiesti, quindi dati da compilare. Sono quelli che vedete qui, sono quelli che ci servono per elaborare poi quello che è l'effettivo consumo di suolo e l'effettiva offerta. Abbiamo cercato di ridurli al minimo, vedete sono cinque dati nuovi da inserire per ogni poligono, per ogni ambito di trasformazione e per ogni piano attuativo.